oggi realizzeremo insieme un trucco con le nuove palette primaverili allora prima cosa ovviamente dobbiamo andare a neutralizzare le occhiaie con il correttore camouflage quindi vado a mettere un po di correttore sull'occhiaia poi lo stendiamo bene e lo stendo con il pennello fondotinta poi ovviamente fondotinta planning la rose 200 e vado a metterlo su tutto il viso ovviamente anche sul collo grazie ecco qua adesso andiamo con un pennello per polvere andiamo a mettere la cipra per fissare il tutto ecco qua adesso prima vado a mettere un po di matita sopracciglia sulle sopracciglia poi prendo il pennello per ombretto lo vado a bagnare con il nostro fissa trucco e vado a prendere la palette ombretti quindi con il rosato faccio la base con quello rosa un po più intenso faccio la parte esterna e poi in centro vado a mettere un po di verdino nella parte sotto dell'otto vado a mettere un po di ombretto verde perfetto adesso vado a mettere la mia terra con il pennello obliquo eccolo qui vado a fare un 8 e con un altro sempre di questi qua vado a mettere l'illuminante ovviamente mascara sempre di questa linea qua e quindi per intensificarlo uso anche un po di tocco finale ovviamente rossetto ecco qua trucco semplice semplice fatto in solo sei minuti